Sono Ivan Mazzoleni, CEO di Flowey, che vuol dire Cultural Energy Orchestrator. Flowey è una società benefit ed è una app bancaria che cosa consente di fare? Gestire i propri soldi, riceverli, accreditare lo stipendio, fare qualsiasi tipo di bonifico e ha una carta in legno, la prima e unica al mondo che pianta gli alberi, perché è un conto che aiuta gli individui a sviluppare il loro potenziale prendendosi cura del pianeta. Flowey è certificata B Corp, Carbon Neutral, ed è un vero e proprio movimento, è un brand attivista che promuove un nuovo paradigma economico, quello della Better Being Economy. Che cosa vuol dire? L'economia del miglioramento, dove il miglioramento individuale è a favore ed è sinergico con quello collettivo e dell'ambiente. Come brand attivista siamo impegnati a combattere due grandi mostri. Il primo è quello dell'inquinamento, lo spreco delle risorse ambientali, e il secondo è quello della disoccupazione. Ecco perché ci è cara l'innovability, l'educazione all'innovability dei giovani e al futuro del lavoro, diventare imprenditori di se stessi. Tutto questo nel mondo contemporaneo non è possibile senza pensare a un ridisegno del mondo dell'informazione. Ecco perché siamo attori protagonisti nella Mixed Information Design, il primo master. Ecco perché siamo attoriμε. Se un'ottima notizia.